E' lunedì, non viene mai mio papà, e' martedì, ha sempre tanto da far. Mercoledì, chissà se oggi verrà, e' giovedì, e' io sto qui ad aspettar, Ma a venerdì, io almeno sento che, il mio papà, per trovarmi allora starei, Ma insieme mi parlerà, il mio papà, e' siamo a sabato e' già, Io spero ancora, forse domani verrà. Grazie a tutti. E dai papà, guarda che domani e' domenica, e tutti i bambini almeno la domenica, hanno il papà e la mamma solo per loro, questo si chiama, e' io? Se lascio postare anche la domenica senza venirmi a trovare, dopo ricominciamo tutti i giorni in brief della settimana. No 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 Grazie.